buongiorno a tutti allora erroneamente quando ho fatto il video precedente avevo detto dopo dovremmo parlare della di quello che ho combinato con le scrine le bollettine dello scorso campione del scopo campione del campionato di qualche giorno fa i cinque campionati cosa ho combinato no bisogna parlare visto che martedì e mercoledì si sono giocate i quarti di finale la champion league delle partite dei quarti di finale partendo dalle partite del martedì e poi a quelle di stasera allora martedì il liverpool ha battuto 2 a 0 il porto diciamo che il risultato è anche positivo se vogliamo per tra virgolette per il porto perché si pensava molto ma molto peggio alla fine ha perso solo solo tra virgolette 2 a 0 giustamente i cronisti dicevano fosse finita 1 a 0 il porto ancora ancora qualche chansettina ce l'aveva 2 a 0 sarà molto difficile riuscire a ribaltare o magari portare e supplementare il liverpool perché si un gol glielo puoi fare magari riesci a fargliene anche due ma devi anche evitare di prenderlo ed è molto molto difficile non prendere gol contro i vari firmino che ità sarà eccetera 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 quindi ci sapeva già era la partita tra virgolette più squilibrata come forza in campo che poteva uscire contemporaneamente c'è la sorpresa perché il tottenham abbattuto il city però attenzione se sbaglio un calcio di rigore è perché nel primo tempo il signor cunaguero cognatino se non sbaglio perché mi sembra che abbia sposato la sorella di maradona non lo so comunque perché magari mi sbaglio magari non è lui comunque quello che è giocatore più uno dei più importanti comunque nel siti quel giocatore più tecnico addirittura c'è il mio collega youtuber che si chiama proprio con perché gli pia gli piace come giocatore visto che anche lui gioca a calcio io preferisco chiamarlo geeks e non cool però va beh si è mangiato il rigore e son che ringraziando il cielo il tottenham continuerà a ringraziare il cielo ha vinto i giochi olimpi quello che era dei sud asiatici eccetera non è andato a fare la leva militare quindi ha potuto continuare a giocare nel tottenham e la messa la messa anche perché il portierino ederson che dicono che sia l'erede di giulio cesa dopo aver fatto una bella parata sul calcio di rigore del qualcuno che l'ha tirato male l'ha tirato a mezza altezza neanche troppo angolato che quindi quando tu vai 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 così e la respingi è così e dare faccio portiere anche se oggi lasciamo per anzi ieri lasciamo perdere però qualche bella paratina lo fate è proprio quei tiri che arrivano a mezza altezza eccetera di solito li prendo di solito oggi va bene ieri lasciamo perdere sorvoliamo quindi alla fine sorpresona tottenham però se il city il rigorino lo segnava finiva 1 a 1 o magari finiva anche 0 a 1 perché il city riusciva a tenere il vantaggio e magari in contropiede la metteva di nuovo però sorpresa veniamo alle partite di oggi manchester united barcellona 0 a 1 auto gollonzo cross colpo di testa di di suarez in mezzo shows no come cavolo si chiama ha voluto cercare di anticipare perché dietro c'era cutinio che era pronto a fare il cucù e l'ha messa dentro lui quindi gol sfortunato autogollonzo poi dopo devo dire che sol sky non ha voluto rischiare ha fatto sostituito centrocampista con centrocampista attaccante con attaccante eccetera eccetera ha messo dentro martial qualche occasioncina al manchester l'ha avuta però diciamo che non se l'è giocata come avrà cioè non ha voluto rischiare ha voluto come si suol dire limitare i danni e poi provare ad andare a barcellona probabilmente a giocarsela come ha fatto col paris saint germain ma il barcellona temo che non sia il paris saint germain e veniamo alla sfida tra ajax e juventus con un cr7 che ha fatto un gran gol perché ha preso il pallone lui a centrocampo la smistata canse lo si è lanciato in area pallone perfetto lui si è inserito bene in mezzo alla difesa dell'ajas che erano lì a guardare le belle statuine lui si è inserito alla grandissima veramente libidine e intuffo di testa alla messa scusate un attimo che mi soffio il naso il portiere il portiere perché c'è colpo di testa in tuffo c'è andato però c'è andato con una mano sola quindi la la solo spizzicata ci fosse magari andato con due gliela però non era facile perché comunque è stato un colpo di testa anche abbastanza ravvicinato non era proprio da da fuori area ecco per intenderci era tra il dischetto del rigore e la porta quindi uno a zero juve non fanno in tempo iniziare non fa in tempo iniziare secondo tempo pareggio dell'ajas che poi a parte il douglas costa che come ho già detto no io quando parlavo di douglas costa che è discontinuo però quando non è discontinuo questo è una bestia nel senso buono del termine infatti ha spaccato la partita ha preso il palo ha fatto due trazioni ha fatto un'azione molto bella sulla fascia ha dato via bene ne ha saltati un paio poi al momento del cross gli è venuto una ciofeca che il portiere ha fatto per noi io comodo bello e infatti si è scusato con tutti però c'è da dire che l'ajas ha messo sotto la juve per 60 minuti tra prima e secondo globalmente 60 su 90 ha giocato di più l'ajas che non la juve cristiano ronaldo ha fatto il gol poi per il resto l'hanno ingabbiato molto bene per quello che riuscivo a vedere perché avendo la diretta gol passavano da una all'altra da una all'altra eccetera però ripeto uno a uno che fa libidine per la juve ma non datelo per scontato questi sono andati a vincere a madrid 4 a 1 quindi se la juve pensa di fare lo 0 a 0 che tanto passiamo col 0 a 0 dobbiamo stare molto attenti perché l'ajas a torino va a fare la sua partita per quello dico attenzione perché è una squadra pericolosa che gioca calcio quando la juve trova le squadre che rispondono colpo a quello che fanno loro soffre e infatti si è visto in coppa italia con l'atalanta tre pere però sulla carta si gioca a torino hanno due risultati su tre validi cioè 0 a 0 e la vittoria devo stare attenti a non prendere gol devono stare attenti a non prenderne più di uno perché poi ne sono costretti a farne tre e non è facile però teoricamente tra una settimana penso dovrebbero non avere problemi teoricamente quindi detto questo liverpool porto liverpool favorito tottenham city partita da giocare ma io resto dell'idea che il siti resta favorito se non sbaglio i calci di rigore manchester un'altra barcellona al barcellona c'ha tre quarti di piede già in semifinale e ajas juve direi 55 juve 45 ajas perché l'ajas fuori casa gioca come in casa quindi attenzione attenzione detto questo vi saluto vi ringrazio fatemi sapere voi cosa ne pensate e se credete in qualche sorpresina ciao